Allora, va bene, Ruggero, nome, percorso di... Allora, diciamo che non sono nell'IT da moltissimo, io lavoro... Più vicino al microfono? Ok. No, lavoro nell'IT da un anno e mezzo, quindi non sono la persona più navigata nella storia per raccontarvi, insomma, di come funziona tutto lo scibile umano, però storicamente ho utilizzato risorse IT di High Performance Computing per anni, quindi ho un po' di esperienza, diciamo, nel background. Nella mia nuova posizione la prima cosa che mi hanno fatto fare è stato dirmi ragazzi, qui bisogna mettere Kubernetes per n motivi tecnici e tu, indicandomi col dito, sei responsabile di installare questa cosa. Ovviamente le prime prove che ho fatto le ho fatte in Virtual Machine, poi dopo, successivamente, le abbiamo messo in produzione e dopo me lo sono messo anche a casa perché l'ho trovato molto comodo. Quindi il mio scopo, in realtà, in questa presentazione è convincervi che Kubernetes in uno piccolo ambiente domestico non è un'esagerazione. Ok? Se arrivate a casa con questa idea alla fine sono molto contento. Allora, lo starting point, quindi ho cercato un attimino di capire da dove possiamo partire e cerco di definire una linea comune. Io mi immagino che la maggior parte delle persone qua dentro si ha conoscenza di cose Proxmox, che lo usi abbastanza regolarmente, che sappia come funzionano le VM e che probabilmente le VM siano, diciamo, il suo pane quotidiano. Dopo le VM, chiaramente uno passa al mondo dei container. Container uno ha l'XC e l'XD, che sono le due tecnologie che vengono utilizzate all'interno di Proxmox, credo solo all'XC e all'interno di Proxmox, che sono già un passo avanti in termini di alleggerimento del peso, però ancora diciamo che non ci siamo. E poi c'è la deploy più comune, che è usare virtual machine e aggiungerci sopra Docker, che è una cosa un po' folle, a mia opinione, specialmente se partiamo dall'idea di avere Proxmox di base, per quanto sia comoda, e questo lo capisco assolutamente. Quindi, così. Perché dovremmo usare Kubernetes? Beh, Kubernetes lo possiamo usare perché innanzitutto i container sono una fantastica tecnologia. La tecnologia di base sono i container, i container sono un fantastico modo di lavorare, ci alleggerisce tante operazioni che invece con Proxmox sono un pochino più complicate, ad esempio la gestione del networking diventa completamente trasparente all'utente, la gestione dello storage, vedremo poi che diventa anche questa, se configurata correttamente, molto pratica e facilmente gestibile, e la cosa più importante è che le two operations, che sono quelle più pesanti, diciamo, sono molto facilitate, ok? Questo è il key point che mi ha spinto a utilizzarlo anche a casa. Ora, il primo mito che voglio sfatare è che Kubernetes è pesante, ok? Questo è quello che tutti quanti dicono quando uno gli dice, no, ma tu ti installi Kubernetes, sì, ma Kubernetes è pesante. La risposta è no e perché no? Allora, questo qua è un articolo abbastanza recente che va appunto a fare il comparison fra varie tecnologie e quanto costa far funzionare il software, quanto costa far girare software in varie situazioni, con vari, diciamo, sistemi di virtualizzazione. Allora, voglio puntare l'attenzione sul marrone, che è Docker, ok? Questa qua, più in alto meglio è, e sulla coppia che di solito viene utilizzata, QEMO-KVM. QEMO-KVM è quello che si utilizza nel momento in cui si va ad utilizzare soluzioni come appunto Proxmox. E si vede che, per quanto riguarda accedere alla memoria RAM, ok? L'utilizzare soluzioni come Docker, che voi potete leggere qui come container, quindi un qualsiasi approccio permetta la container, senza focalizzarsi su Docker come software, sia un buon bump in ogni possibile tipo di operazione nei confronti della RAM. Quindi un primo vantaggio, già si vede in questa situazione. Un'altra cosa che uno va a fare è l'insieme di operazioni che, cioè l'overhead che viene inserito dall'utilizzo di una virtual machine, quindi di un interprete, diciamo, per le istruzioni sulla GPU, e la vera quantità di CPU che viene persa in questo passaggio. Allora, abbiamo varie, questi qua sono vari test, vari test standard. In tutti quanti i test Docker, una soluzione a container, funziona meglio di tutte le soluzioni a VM, queste sono tutte soluzioni VM. E nel caso particolare di una Fourier Transform, che può essere un'operazione che viene fatta, ad esempio, da Nextcloud, quando uno va a chiamare FFmpeg per analizzare immagini, si vede come ci sia un bump delle performance di circa due volte, tre volte, no, 4, 4 per 2, 8, circa quattro volte. Cioè, la perita di performance con operazioni complicate, se uno va a lanciare le cose dentro VM, è elevata. In questo momento state incominciando forse a capire perché mettere Docker dentro una VM, dentro Proxmox, non è proprio la cosa migliore che voi possiate fare nella vostra vita. Ancora, quant'è l'overhead in termini di memoria RAM che viene utilizzata da soluzioni tipo Virtual Machine? Ok, abbiamo Docker praticamente zero, soluzioni in container praticamente zero, QEMUKVM abbiamo un overhead di più o meno 400 MB per macchina. Ok, in realtà questa è una stima fatta con vari parametri, l'articolo è lo stesso di prima, se volete andare a informarvi. è un average memory footprint di 100 VM installate sul dispositivo. Quindi, abbiamo stabilito che se riusciamo a togliere il layer di, spero di avervi convinto, anzi, che se voi riuscite a togliere il layer di QEMUKVM, avete guadagnato un sacco di performance e questo vi permette di girare su commodity hardware. Questo è il grande goal, ok? Quindi voi sul vostro computerino di casa potete far girare Kubernetes. Potete risparmiare un sacco, diciamo, di capacità di calcolo e avere accesso più veloce alle risorse. Kubernetes itself, Kubernetes da solo, non è super leggerissimo, ok? Ci sono un po' di cose da far girare, ma non è neanche così pesante. Cioè abbiamo di base le cose veramente importanti, sono un DNS che deve girare, un database che deve girare e un loop che di fatto controlla lo stato del database e agisce di conseguenza. Il database ce ne sono vari, dopo andiamo a vederne magari un paio. Però se ci pensate, quando state facendo girare Proxmox, non è che ci sia molto di meno, ok? C'è un sito web, c'è un applicativo, c'è un database dietro l'applicativo, quindi siamo là, ok? Come situazione. Il mio hardware, ok? Per darvi un'idea di su cosa sta girando adesso il mio Kubernetes a casa. Abbiamo un nodo che fa, un nodo singolo, ok? Adesso sono due in realtà, però diciamo che io sono partito da un nodo singolo, quindi mi limiterò a parlare di un nodo singolo. Abbiamo un i3 di sesta generazione, T, quindi stiamo parlando di due core, quattro core in multitrading, che tiene in piedi tutto quello che ho al momento. 16 GB di RAM, non ne servono 16, ma fanno comodo, devo ammettere. Lo storage è separato, nel mio caso ho un Helios 4, un po' datato anche questo, però insomma comunque ha i suoi 2 GB di RAM e 2 TB, ah, giusto per informazioni, 4 TB in hard disk standard, due da 4 TB in B3FS come file system RAID 1. B3FS è una scelta che è opinabile, sono d'accordo che non è il massimo in questo caso, vedremo dopo perché magari. E la SSD, la SSD è una cosa che la gente potrebbe pensare, ma mi serve la SSD? Allora questa è una domanda che mi sono posto anch'io non più di una settimana fa, non ho i risultati, cioè non posso presentarvi i risultati, però ho provato a vedere la velocità, a stimare la velocità di scrittura, diciamo dal nodo, quello con l'i3, ok, quindi dal nodo piccolino al disco scrivendo su questa partizione B3FS e in realtà già con i dischi normali io saturo la banda, cioè la banda è gigabit e io saturo la banda di scrittura, quindi non serve l'SSD a meno che voi non vogliate cose che siano latency bounded. In quel caso lì un po' di overhead c'è, ma non è poi così grave. Allora, visto questo, supponiamo che voi vogliate installare Kubernetes domani mattina, quali sono le parti che vi conviene andare a esplorare? Allora innanzitutto vi serve sapere cos'è un container engine, il container engine è quella cosa che vi permette di generare container, voi usate Docker, quando usate Docker di fatto Docker chiama un container engine che è il Docker D che è quello di Docker, ok, quindi si chiude la faccenda tutto lì. Io personalmente uso Cryo, che è quello che ho sviluppato da Red Hat e si installa col Packet Manager, cioè se avete una CentOS release, DNF install, Cryo e chi si è visto, si è visto. Dopodiché avete Kubernetes, Kubernetes si presenta all'utente come un paio di comandi, kubectl e kubadm, kubadm è il software che vi permette di installare Kubernetes e gestire, scalare su più nodi e queste cose qua. kubectl è quello che vi permette di controllare, kubectl, di controllare l'applicativo. Anche questi se aggiungono un repository si installano con il Packet Manager. Tra l'altro per kubus e jaffedora sappiate che di recente hanno rifatto il packaging di Kubernetes e funziona relativamente, cioè sembra un progetto che sta andando avanti molto bene, si può anche evitare di installare i repository di kubus a parte. Altro oggetto, la cluster network interface, ok? Questo qui è uno degli oggetti più complicati quando ho detto che Kubernetes gestisce da solo per voi il networking, o in realtà è vero, modulo il fatto che sia configurato correttamente, ok? Il default è che tutti quanti i vostri pod che andrete a generare vanno a finire sullo stesso bridge, quindi lui creerà un bridge dietro le quinte e tutti quanti i pod si agganciano su quello e la CNI è responsabile di agganciare le interfacce sul bridge e sul pod, ok? e di gestire poi tutte quante le varie root e quant'altro. Una volta che questo, il bridge semplice funziona e ha funzionato per me per molto tempo fino a quando ero su un singolo nodo, quando voi dovete passare su una soluzione multinodo, in quel caso lì ecco che il bridge cade un po', il bridge non è capace di mandare il traffico da un nodo all'altro e dovete installare una CNI un po' più complicata. Io adesso sono passato a Flannel che di tutte le CNI che conosco è la più facile, si basa su VXLAN quindi aggiunge un extra layer di encapsulation per comunicare tra i vari nodi, fa tutto lui, cioè non è che uno installa e per chi vuole andare un po' più nel dettaglio di fatto usa IP tables per gestire tutto il traffico, quindi alla peggio se si rompe, che è la cosa di cui tutti si spaventano di più, uno si fa stampare l'IP table, vede dove stanno andando i suoi pacchetti, va sul singolo nodo e capisce, disperatamente reboot del nodo e chi si è visto si è visto. Se è configurato tutto correttamente il sistema addirittura rischedula i pod da altre parti e la gente non se ne accorge neanche, cioè in un minuto tutto è ritornato up and running. Altre cose più complicate, ma queste le lascio per un prossimo futuro, Calico e Silium hanno più feature, sono molto più difficili da utilizzare. Questi qua sono tutti i pacchetti che si installano dall'interno di Kubernetes, quindi se dopo aver installato Kubernetes li volete aggiungere, li potete aggiungere dall'interno direttamente. Storage, questa è un'altra cosa molto importante. Allora lo storage può essere locale, quindi sulla stessa macchina su cui avete installato Kubernetes, su cui state facendo girare il pod diciamo, e lo storage locale potete averlo gestito a mano, quindi voi create fisicamente la cartella e gli dite guarda che i file staranno in quella cartella, cosa più facile, oppure con un po' di impegno potete installare un provisioner, dove dopo voi quando andrete a deployare il vostro software gli chiedete soltanto a Kubernetes per favore dammi una cartella e lui vi darà una cartella, nello storage locale. Perché lo storage locale è molto comodo? Perché appunto, tornando al discorso di prima, potete abbattere le latenze e se dovete deployare un database, ad esempio, lo potete mettere sullo storage della stessa macchina. Io giro Postgres per Nextcloud, ad esempio, e mentre i dati di Nextcloud stanno sullo storage distribuito a parte dell'Elios 4, i dati del database stanno sulla stessa macchina dove sta girando il servizio. Nel momento in cui dopo voi vogliate scalare, chiaramente, questo complica un po' le cose, perché se voi volete che il servizio sparisca da un nodo e compaia su un altro, questa cosa non viene gestita in automatico dal local provisioner, diciamo. Se invece è un mount point che viene montato tipo un servizio NFS, dove voi potete avere il mount point che viene caricato, o un volume ZFS che avete formattato in X4 o quello che preferite, quello può essere smontato e montato automaticamente da Kubernetes da un nodo all'altro, quindi se volete spostare il pod gli dite semplicemente per favore spostalo da questo e mandalo sull'altro, lui lo uccide, va sull'altro pod, si rimonta il volume e lo rigenera. Cioè queste sono tutte quante feature molto simili, se state cercando di immaginare, a quelle che avete dentro Proxmox, e quando gli dite per favore spostami questa VM nell'altro nodo, è esattamente la stessa cosa. E questo spinge nella direzione del perché non usare Proxmox, diciamo. Ovvio che se poi dopo avete un laboratorio che vi permette di girarlo, tanto meglio. Quindi local, chiaramente ci sono altri tipi di storage, c'è CHEF, c'è ZFS che ha i volumi, che è molto comodo, e c'è NFS, potete avere provisioning di cartelle via NFS, che è la cosa che faccio io di solito. Ha un po' di problemi, però, cioè ha un po' di problemi legati ai permessi, però sono cose abbastanza avanzate. Ancora lo storage viene gestito all'interno di Kubernetes, quindi dopo averlo installato potete gestire lo storage in un secondo momento. Load balancer, come arrivo ai miei servizi? Beh, la risposta è che vi serve sempre un load balancer per poter dare ai vostri servizi un IP. Il caso Bare Metal non ha un load balancer di default. Ok, se siete nel cloud avete la VS Google Cloud load balancer, cioè ce ne sono a bizzef, i load balancer potete prendere. Bare Metal vi dovete mettere Metal LB. Metal LB ve lo consiglio in Layer 2 mode, quindi fa chiamate ARP, per chi sa cosa, cioè fa le solite, come si chiama? Vabbè, riempie le tabelle ARP di fatto. Potete configurarlo in BGP mode, lascio a voi questa scelta, insomma. E anche questo si può installare all'interno di Kubernetes in un secondo momento. Ci sono altri componenti che possono ritornarvi utili, cioè li scoprirete da soli, probabilmente se avete un home lab che li state già girando. Uno è Chart Manager, che vi permette di gestire i certificati, di chiedere la Let's Encrypt nel momento in cui volete fare siti internet esposti sul web, che in automatico ve li genera, ve li rinnova in accordo ai siti che voi state pubblicando, diciamo, dovete dimostrare di controllare il DNS, però non è niente di diverso da quello che già fate. E poi, dopodiché, c'è l'ingress controller, che è praticamente dove voi, è un load balancer di livello 7, è un reverse proxy, entrambe le cose, che è quello che già probabilmente fate con un CAD o con Nginx o con traffic, esatto. Sono gli stessi componenti, invece che deployarli in una VM, li deployate in container. Chiaramente tutto questo, ok, l'ingress, diciamo che è la vecchia API, la nuova API si chiama gateway API, ha più feature, ma è un po' più complicata da gestire, e soprattutto si trova meno documentazione e esempi già precostruiti. Che distribuzione scegliere quando partite? Allora, potete farvi male, come ho fatto io, e partire con K8S direttamente, che fa due scelte per voi, vi dice che il vostro database deve essere tcd e che il vostro DNS deve essere core DNS all'interno di Kubernetes e il resto vi lascia libera scelta in tutte le possibili componenti che voi potete andare a configurare. K3S, invece, che non è tanto una versione più light, in quanto in realtà l'unica cosa che fa è sostituire tcd con SQLite, quindi non è molto più leggera, però quello che fa di molto comodo è che sceglie per voi tante cose, quindi tcd viene sostituito da SQLite, core DNS rimane core DNS, però il container engine decide lui che è docker d, quindi voi avrete docker di fatto dentro la vostra macchina, che poi è contenuto dentro K3S, quindi è tutto in scatolato, la cni decide lui che flannel va bene, quindi avete già flannel out of the box, arriva di default con un local provisioner, quindi in automatico voi potete già avere le cartelle locali gestite, cioè chiedete cartelle e lui vi crea cartelle direttamente a Kubernetes, arriva già col traffic come ingress, se non erro, dovrei ricontrollare questa cosa, e arriva già con le metriche installate, quindi il vostro cluster viene monitorato in automatico, avete tutte le metriche diciamo alla Proxmox, dove voi vedete quanto utilizza una singola VM in termini di RAM e CPU, e qui invece vedete quanto un container usa in termini di RAM e CPU. Esistono altre soluzioni, adesso di recente è uscito K0s, io non l'ho mai deployato, K0s, però è un single binary e dovrebbe usare ETCD come database e flannel come CNI. Probabilmente core DNS come DNS, però non l'ho controllato. E gli altri non penso vengano automaticamente scelti. Chiaramente con questo è il minimo che vi serve, diciamo che ETCD, core DNS, una container engine, e una CNI che sia quella di default che vi genera il bridge o una più fancy, sono il minimo che vi serve per partire. Ok, poi dopo tutto il resto si aggiunge sopra. Ok, per ricapitolare, insomma K8s, io sono partito con la default CNI e poi sono scalato a flannel, io sono partito con local provisioner e poi ho scalato l'NFS provisioner, io uso la gateway API per entrare con Nginx e il cert manager per gestire i certificati. Chiaramente questi due elementi, l'API, il gateway e il cert manager sono arrivati molto dopo, all'inizio entravo con IP, con singoli IP sulle macchine che vengono esposti via L2. Ok, ancora dieci minuti, dissecting an application, volevo farvi vedere un attimino come si presenta un'applicazione all'interno di Kubernetes, ho scelto il PyHall perché penso che sia una che più o meno tutti conoscono, che più o meno tutti fanno girare nella propria infrastruttura di casa e una delle prime a cui siamo interessati. C'è a lot of YAML is involved, cioè c'è tanto YAML all'interno di questa cosa, quindi preparatevi a pagine e pagine di YAML e boilerplating. Allora, la prima, una delle cose con cui dovete diventare familiari è il deployment, il deployment è quello che vi permette di avere servizi che scalano orizzontalmente e che sono stateless. Ok? Di tutto, quando vedete questi file, ci sono file enormi, pieni di boilerplating, di informazioni, in realtà quelle su cui dovete concentrarvi sono abbastanza contenute. Avete delle label che sono importanti e vedremo dopo perché, che vengono agganciate a tutti quanti i container. Ok, il concetto di container in Kubernetes non si parla mai di container, si parla di pod. Un pod è un insieme di container, quindi più container girano in un pod e di fatto il caso base è un pod, un container. Ok? Quindi, all'altro pratico, avete un pod, un container. Quindi voi quello che fate, avete la specifica, avete la specifica del deployment e poi dopo di che avete la specifica del template, che è quello che vi dice cosa viene scalato orizzontalmente e qui vedete che c'è la... Ok, c'è un container che è Luke Wright, ho scritto questa cosa qua, l'ho scritta io, non si capisce molto, però diciamo che questo viene espanso su questo lato. Allora avete la piehole, un nome per il container, un'immagine, un po' di variabili d'ambiente, un po' di extra capabilities che vengono fornite al container, le capabilities per quelli che non sanno cosa sono, sono cose che permettono al container di fatto di diventare più potente, poter interagire meglio col sistema intero. In questo caso piehole ha bisogno di essere abbastanza forte, di poter fare abbastanza cose nel campo del networking, quindi gli abbiamo dato, gli ho dato un po' di capabilities in più nella possibilità di fare networking. Poi avete le porte da esporre, come vi aspettate da un qualsiasi docker file, e i volume mount, che sono i volumi che vengono montati, e dall'altra parte avete i volumi con questa persistent volume claim, che è la richiesta che voi fate a Kubernetes di avere spazio. Quindi da qualche altra parte ci sarà una persistent volume claim chiamata piehole che chiederà a Kubernetes di avere dello spazio tipo 2 giga in read-write sul localhost, ad esempio. Quindi questo è il deployment. A un deployment dovete agganciarci un servizio che è quello che veramente vi espone diciamo che veramente vi espone il piehole. In questo caso ho fatto soltanto la parte HTTP, chiaramente piehole dal DNS e tutti quanti le altre cose le ho cancellate per brevità. Allora avete il tipo di servizio che è un load balancer, abbiamo visto prima load balancer metal LB, l'IP a cui volete associare questa macchina, cioè questo servizio, external traffic policy local, questo è per, questo è un piccolo trick che secondo me è interessante da sapere per avere non avere problemi, Kubernetes fa nothing di fatto e questo vi permette di non avere le snat in modo tale che la comunicazione poi diventi diretta e non ci sia più l'overwriting del source che fa Kubernetes di default. Le porte che vi interessano e il selector, ecco questa è la cosa più importante perché questo servizio deve sapere a che servizio agganciarsi sul back end, cioè a quale pod dei mille e mila che Kubernetes avrà a disposizione per poterlo esporre e questo è la label che abbiamo messo prima e quella che ci servirà qui per poter dire a questo servizio di esporre il pod associato al pie hole. Dopodiché avete le config map che sono le configurazioni e di fatto sono dei file, questo qui ha all'interno un file che ha questa riga. Niente di fancy. A questo punto per concludere volevo farvi vedere un attimino come si interagisce con Kubernetes e in particolare un applicativo cioè un applicativo che io trovo molto utile per speriamo che si veda un applicativo che trovo molto utile per gestire gestire Kubernetes. Ok? Si vede qualcosa? Spero di sì. allora questo questo è K9S che vi consiglio vivamente di installare qui stiamo partendo dalla visuale dei nodi potete immaginarla come su Proxmox l'elenco dei nodi che avete a disposizione qui vedete che io ne ho due che sono i due che abbiamo visto all'inizio questo il primo è il control plane che è quello che ho avuto storicamente avete il numero di pod che ci stanno girando sopra adesso non credo l'abbia caricato tra un po' dovrebbe caricarlo eccolo là allora avete il numero di pod che stanno girando sopra vedete che ci sono 22 pod quindi 22 servizi su questo nodo e sta funzionando da 266 giorni questo non è l'uptime questo è il tempo che il nodo è il tempo da cui il nodo è stato costruito e poi dopo c'è il secondo nodo che è là da un mese che fa la muffa perché non ho tempo di gestirlo versione di Kubernetes e altre cose allora questo applicativo funziona un po' alla Vim quindi con due punti aprite il terminale e potete navigarlo allora nodi perfetto 1,2 poi potete andare sui pod eccolo qua allora qui due osservazioni io ho selezionato un namespace i namespace sono il modo con cui Kubernetes divide le risorse diciamo tra diversi tra diversi applicativi il default è vuoto c'è solo il software per fare il test del benchmark dello storage e un'altra nota di merito è che qui non ci sono le metriche della CPU e della memoria perché io per stare più sulla versione Lite visto che ho solo due nodi non tengo le metriche attive cioè non ho installato nessun servizio di metriche sui nodi per mantenere la cosa più leggera allora adesso ok questi qua sono tutti i namespace che ho installato adesso ci spostiamo sul namespace del Python e all'interno del namespace del Python c'è un singolo pod che è il pod del Python che è funzionante running che ha un IP all'interno del cluster e altre informazioni che adesso saltiamo perché stiamo prendendo il tempo il deployment che abbiamo visto prima eccolo qua la persistent volume claim che è lo storage che abbiamo richiesto quindi abbiamo 2 gigabyte di spazio in read write ok questo qua saltiamo cosa sono i persistent volume questa è la controparte a ogni persistent volume claim esiste un persistent volume che è il reale oggetto che stiamo utilizzando per lo storage il servizio che abbiamo visto prima eccolo qua qua sul Python in realtà ne ha tanti ha il DNS TCP il DNS UDP la pagina web e il DHCP quindi sono tanti tutti quanti aspetta tutti quanti vedete sono esposti sullo stesso IP quindi più IP possono avere più servizi possono andare sullo stesso IP e qui avete le porte che vengono esposte che abbiamo definito prima ogni porta ha la sua uscita ok e volevo vedere se faccio vedere un'altra cosa ok questo qui invece è la schermata dove vedete lo stato diciamo del servizio e all'interno dello stato del servizio voi avete la cosa più importante sono il selector che vi dice le varie label che sono state scelte per trovare i pod associati a questo servizio in particolare e gli end point gli end point sono i pod che andranno a rispondere alle query che entreranno a questo servizio quindi tutti quanti quelli che andranno a riferirsi all'IP 10.253 in questo caso avranno reindirizzati all'end point 10.1704 ok poi dopo il resto secondo me siamo a corto coi tempi quindi saltiamo ok ultimissima cosa vi consiglio vivamente di usare elm se vi approcciate a kubernetes per gestire i vostri applicativi perché semplifica di molto cioè se trovate i repository ufficiali delle varie applicazioni vi semplifica di molto la gestione appunto delle date to operation che avevo detto all'inizio questa cosa qua la saltiamo ok perché no kubernetes ok perché ok perché no kubernetes è una cosa importante è difficile vi serve tanto tempo up front per impararlo questa è una cosa assolutamente vera cioè non è una cosa che si impara dalla sera alla mattina purtroppo ci sono un sacco di moving parts ci sono un sacco di cose con le quali bisogna essere bisogna metterci le mani pesantemente per capire come stanno funzionando se si scegliono soluzioni k3s questo viene alleggerito parecchio però se uno parte con k8s è chiaro che la soluzione è che la cosa è complicata c'è un sacco di boiler per scrivere questa è una cosa che scoccia tantissimo e se il software non è supportato dalla community fare i deployment diventa un po' complicato non è as straightforward as it sounds e vostra madre potrebbe non essere felice se new cat e il dns tipo ieri sera mentre state cercando di fare le slide dovete fare le presentazioni quindi questa cosa qua potrebbe essere problematica cosa spero che viate imparato vabbè che voi potete girare k8s su commodity hardware è decisamente possibile ci sono tante componenti di cui fare il setup c'è il container engine c'è lo storage c'è la cni c'è l'out balancer potete partire con k3s e poi migliorare mano a mano along the way lungo la strada guardatevi attorno per tool di terze parti perché la gestione di kubernetes è tanto favorita se incominciate a guardare e scoprire che esiste kube context k9s e helm ha i suoi pacchetti all'interno cioè tutto diventa molto molto più facile da gestire usate helm con attenzione è vero che è molto bello però sarebbe prima da leggere quello che scrive prima di metterlo prima di lanciarlo cioè prima di metterlo in produzione e cosa potete fare beh se non avete tempo di provare kubernetes try go simpler invece che usare invece che andare su docker incominciate con podman perché podman ha già le piai che gestiscono roba kubernetes quindi podman gestisce deployment podman gestisce per system volume quindi incominciate a scrivere yaml che poi potete tutti riutilizzare su kubernetes ed è ruthless sì questo assolutamente è vero anche questo è vero grazie grazie Ruggio domande una Luke Luca una domanda che magari esula un pochino dall'home lab storage di quelli che è listato cioè sef che se l'avessero chiamato kraken era forse più appropriato se uno vuole fare node cluster level redundancy senza awaken the kraken what do? c'è qualcosa di un po' più semplice in cui gli dici ok ho tre nodi e non voglio far girare 700 gigabyte di memoria per mister kraken cosa fare? allora se tu puoi permetterti di avere un singolo nodo un single point of failure diciamo se tu puoi permetterti di avere lo storage come single point of failure perché questa è una cosa che devi accettare in questo caso a quel punto l'idea è di usare ZFS e ZFS ha un bellissimo provisioner dove puoi permetterti di fare dove puoi permetterti di provisionare volumi diciamo raw che puoi formattare con la formattazione che vuoi chiaramente questo non ti permette horizontal scaling quello che mi chiedevo è come fare ad avere un minimo di node o cluster level tipo se hai tre nodi replicare almeno su tre nodi esiste qualcosa? io credo che solo c'è esatto stavo per dire l'unica risposta è chef in quel caso secondo me ti dico ti dico io allora a casa ho accettato che esiste un single point of failure che è il nodo di il nodo di storage cioè se quello va giù chiaramente i servizi che non hanno localhost come come storage che quindi però non sono migrabili da uno all'altro muoiono e il gioco è fatto altrimenti l'altra ipotesi è andare di chef è l'unica soluzione che vedo facile esiste lustre esiste longhorn cioè ce ne sono altri però la memoria utilizzata non è meno cioè anzi siamo sempre sullo stesso gioco e ti dirò di più che quando tu parli di chef se tu vuoi poter migrare da un nodo all'altro cioè se tu vuoi avere se tu vuoi avere la scalabilità orizzontale non ti basta avere lo storage in RBD come si chiamano cioè non ti basta avere i block ti serve addirittura avere chefFS quindi hai l'overhead di dover gestire l'intero file system a livello di chef noi al lavoro abbiamo un cluster distribuito di chef su 12 nodi quindi la cosa era per quello che chiedevo perché io sono abituato a vederli in data center con magari cinquantina di nodi ma la roba più piccola si poi se vuoi andare iperconvergente puoi fare Rook però Rook di fatto usa chef cioè Rook non è altro che un'amministratore di chef il punto è che se ti vai a vedere le specifiche se tu devi dimensionare chef già per funzionare bene su singola macchina e dopo devi pensare di metterci anche sopra un workload per il tuo applicativo la macchina incomincia ad essere una signora macchina ok non è più una macchinetta di gioco grazie domande?